Oggi è successa una cosa importante al cantiere del ponte, è come se ciascuno di noi in questi anni si fosse preso cura di una persona a cui teneva molto, quindi una persona anziana, il nostro ponte, l'avesse affidato ai migliori dottori, ai migliori chirurghi che sono intervenuti, gli ha messo delle protesi, oggi queste protesi sono state tolte e il ponte è iniziato a stare in piedi da nuovo sulle sue gambe. Insomma credo sia una giornata importante per Bassano, per tutti noi, per tutti quelli che hanno lavorato credendoci fino ad oggi a questo progetto. C'è molta soddisfazione ma c'è anche forte emozione per il vice sindaco Campagnolo nel raccontarci gli importanti passi che si stanno compiendo per riportare in salute quello che è stato sin da subito chiamato il grande malato. E oggi questo grande malato, il ponte degli Alpini, sta guarendo di giorno in giorno visibilmente perché poggia da poche ore sui nuovi pilastri di legno, non più sui castelli di acciaio che... Già in settimana inizieranno a smontarli e credo per fine settimana, inizio della prossima, sempre a tempo permettendo, dovremmo rivedere l'area completamente aperta. Ovviamente con le stilate ancora non completate ma saranno completate nei giorni immediatamente successivi perché tutto il legno è arrivato, l'abbiamo visto in cantiere già da venerdì scorso e quindi inizieranno insomma a rimontare e a chiudere tutte le stilate. I lavori stanno procedendo a ritmo serrato, nonostante l'impeto e l'imprevedibilità di un fiume come il Brenta gli uomini della Inco di Pergine-Valsugana stanno rispettando la tabella di marcia. Il progetto lavoro preventivo aveva calcolato tutte le variabili e le azioni da mettere in pratica quando verificava qualcosa di problematico. Fino ad oggi tutto ha funzionato bene e dobbiamo continuare a andare avanti così. Insomma, siamo spiacenti ma il ponte non può più essere oggetto di strumentalizzazione politica. A buon intenditore, poche parole. Alla faccia, aggiungiamo noi, di chi ha sempre remato contro.